tutorial puff dopo la bronchiolite broncovalias sono due puff uno a perdere e flu spiral eccolo qua a lei questo non piace però non li fa male adesso vi faccio vedere come si fa si preparano i pompetti con questo qui attaccato al visino lei comunque respira che se le si ribella perché si sente costretta io provo a fagliere prima a questo modo lei si ribella dopodiché va trattenuta con un po di forza allora prima a perdere però sta ferma 1 aspettiamo otto insufflazioni ma come sei brava madonna e 2 e vabbè allora passiamo a quest'altro il primo a perdere 1 e vabbè quello ufficiale la trattenuta la trattengo non li sto facendo assolutamente male la sto solamente tenendo da qui lei è in grado di respirare e che non piace essere costretta e due abbiamo quasi finito cinque secondi amore questo qui è per il tuo bene ti libera il polmone ti fa dormire la notte e l'ha prescritti da pediatra eh fatto 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 procediamo a consolarla